Un messaggio di civiltà contro il turismo sessuale. A lanciarlo l'associazione Mete Ollus. Testimonial sarà il professore Alessandro Meluzzi. Ascoltiamo Giorgia Butera. Giorno 7 giugno a Palermo Palazzo delle Aquile ore 10 presentiamo il nuovo impegno umanitario internazionale. Questa volta affrontiamo il turismo sessuale nei confronti dei minori. Ci riguarda, ci riguarda noi italiani, indubbiamente riguarda la comunità internazionale. Un dato che fa paura. Sono 3 milioni le persone al mondo che viaggiano ogni anno per praticare turismo sessuale nei confronti dei minori. Minori a partire dai 5 anni. È inaccettabile. Io ritengo fortemente che lo Stato debba intervenire educando i propri cittadini perché il viaggio è un'altra cosa. Non si può partire per questo. E così seguendo il percorso naturale Mete nel ruolo di advocacy insieme a Protea Human Rights Sarbaresi, l'Osservatorio Giuridico Italiano ed altre realtà che hanno firmato insieme a noi il manifesto. Perché noi partiamo da un manifesto visuale e possiamo annunciarlo. Sarà in aeroporto a Palermo per poi estendersi sul territorio nazionale. Noi diciamo che i bambini bisogna amarli tutti. Non è possibile che ci siano bambini al mondo che debbano essere abusati, violentati perché vittime della povertà economica e sociale.